In questo video vedremo come scaricare i video da YouTube ed averli per esempio disponibili su pendrive. Questo è molto utile nel caso in cui si abbia a scuola una connessione non stabile o non si abbia connessione oppure si debba dare ai ragazzi per la flipped classroom ma anche per altri progetti dei video che altrimenti i ragazzi non potrebbero vedere. In altri tutorial per esempio abbiamo visto come poter vedere un video senza distrazioni quindi purificato di tutti i commenti tramite view pure, tramite safe share. Abbiamo visto anche come dare ai ragazzi un video tagliato quindi concentrar loro l'attenzione solo su alcuni minuti del video, questo tramite tube chop oppure YouTube time. Ora invece vediamo come scaricarli. Il sito in questione è keepvid.com. In questo sito noi dobbiamo inserire in alto il link. Poniamo che questo sia il nostro link per esempio Nucciordine, Filosofia e Teologia in Giordano Bruno che è una bella conferenza sul filosofo di Nola. Copiamo il link e qui lo incolliamo. A quel punto clicchiamo su download. Il sito come vedete al di là della pubblicità che non ci interessa propone il video in tantissimi formati. Per esempio in mp4 a 720 pixel, in mp4 a tanti altri formati 144, 240 e via discorrendo. Io consiglio 480 o 720. Sotto questa qualità il video appare piuttosto sgranato e sopra questa qualità, vada a dire sopra l'HD forse non c'è bisogno. Poi ci sono anche altri formati come 3GP, Flash e altri che però tuttavia non sono sempre usati. Il più comune e compatibile è l'mp4. Infine per chi avesse necessità è possibile anche scaricare eventualmente per podcast l'mp3. Cliccando in ognuno di questi viene ecco qui proposto il download del video.